Beni per oltre 5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Firenze nei confronti di un imprenditore calabrese operante in Toscana nel settore dei rifiuti, già arrestato lo scorso aprile, nell'operazione denominata Cheuda, al nome del rifiuto derivante dall'attività di concia delle pelli, che nonostante presentasse particolari criticità ambientali, era stato riutilizzato per sottofondi stradali, terreni agricoli e opere pubbliche. Questa attività avrebbe consentito all'imprenditore di accumulare nel corso degli anni un ingente patrimonio di origine delittuosa. I beni sono stati sequestrati sulla base di una proposta di misura di prevenzione patrimoniale avanzata dall'ufficio misure di prevenzione e contrasto ai patrimoni illeciti della Procura della Repubblica di Firenze. Durante l'attività investigativa, congiunta dal NOE, dal NIPAF e dalla sezione di polizia giudiziaria di Firenze, è stato anche consentito di acquisire riscontro circa alla vicinanza del proposto alle famiglie di Ndrangheta crotonese riconducibili alla cosca Grande Aracri di Cutro, in provincia di Crotone. Il patrimonio sequestrato comprende numerosi terreni e abitazioni ubicati in Toscana, nelle province di Arezzo e Pisa e in Calabria, nel Crotonese, oltre a conti correnti società e automezzi, facenti capo all'indagato e all'astonucleo familiare.